la pioggia smetterà presto tubs grande ho appena finito di colorare il mio disegno riesci a indovinare cos'è bravo tubs è proprio così è un pinguino con in mano una tazza di tè mentre pattina nella giungla con tanti bei colori un arcobaleno ha tanti bei colori anche lui mi domando come fa un arcobaleno ad avere quei colori idea geniale tubs possiamo volare chiederlo all'arcobaleno e scoprirlo ma prima mi serviranno delle ali ali confermate e andiamo a esplorare attivare la stazione di Blippi la Blippi mobile è pronta per l'avventura andiamo a scoprire come fa un arcobaleno ad avere quei colori ragazzi e ragazze attenzione prego il grande cielo blu è fiero di presentarvi il più grande influencer della natura io sono archetto l'arcobaleno ciao io sono Blippi sono un tuo grande fan archetto conosco tutti i tuoi colori grazie 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 sono molto fiero dei miei colori lascia che te li mostri uno ad uno d'accordo rosso arancione giallo verde blu indaco violetto i miei complimenti Blippi ehi sai oggi è un grande giorno stiamo per trasmettere uno stravigliante doppio arcobaleno oh devi far parte della mia diretta davvero sarei molto onorato però non so come ottenere questi colori tu puoi mostrarmelo ma certo mio super fan Blippi prima cosa guarda questa bella nuvola chiamata cumulo nembo oh sembra abbia appena piovuto quindi è perfetto vuol dire che ci sono tante goccioline d'acqua nell'aria wow in questa nuvola ci sono tante piccolissime gocce d'acqua hashtag vero adesso il prossimo passo posiziona la nuvola in modo che la luce del sole passi attraverso le goccioline d'acqua ecco così ora quando la luce attraversa l'acqua si piega o si rifrange e si separa in tutti i diversi colori dell'arcobaleno voilà ma è fantastico e credo di avere la risposta alla mia domanda come fa un arcobaleno ad avere tutti quei diversi colori è perché quando la luce del sole attraversa l'acqua la luce si rifrange e si divide formando tutti i vari colori dell'arcobaleno carica la risposta tabs e 5 6 7 8 wow non dimenticare di seguirmi e mettermi like d'accordo arrivederci ci si vede Blippi